ciao creatura io sono meccati splendente e benvenuta o bentornata nel regno di con la A A S M A questa sera faremo una normalissima normalissima sessione di suoni rilassanti come si faceva tanto tanto tempo fa niente di più niente di meno che soltanto suoni rilassanti quindi indossa le cuffie mettiti in un posto tranquillo seduta o sdraiata grazie comunque per essere in mia compagnia questa sera e grazie per il like per esserti iscritta per aver condiviso qualche mio video qualche tuo amico lo so ok iniziamo con il mio trigger preferito ovvero questa spugna di silicone suone ai suoni al termine però anche con un po' di whispering perché so che è la cosa che preferisci del mio canale però questa sera ti becchi ti becchi in abversione lenta 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 del mio whispering dei miei sussurri sussurri cosa ne pensi del mio wake up lenta 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 il mio pioccio tantissimo al posto del plasso e usato o vritto dell'agico lilla e poi ho giocato con i toni di viola per i creare l'umbre l'ucchi e umbre l'ucchi e umbre l'ucchi e umbre l'ucchi e umbre ho fatto decluttering nei cassetti e ho trovato queste vecchie 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 perline perline di legno che ha pensato potremmo provare in un video a metterle come andava di moda tempo fa anche su diverse piattaforme come per esempio tiktok mettere queste perline di legno dentro a una ciotola un ciotolo di legno faremo di plastica o di vetro non lo so vediamo e farle forse meglio di plastica mescolarle farle un bel suono mescolarle lentamente lentamente ovviamente lentamente lentamente questo è il nostro piccolo momento lento che ci siamo ritagliati soltanto per noi questa sera attendo il tuo voto o meglio il tuo 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 commento al riguardo va bene provare questo trigger delle perline di legno perline di legno perline di legno ho visto ho visto intere live asmr con delle maionette penso con pazzetti che passavano tutta 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 la notte a mescolare con dei cucchiai 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 di legno queste perline dentro l'acqua e avevano miliardi miliardi di visual di follower e non ho capito bene però è rilassante si si molto rilassante magari le perline che ho io sono un po' un pochino piccoline però possiamo provare lo stesso mai dire mai dire mai dire mai dire questo nero sfondo nero è il express brush cleaning mat matt e il quale si puliscono i pennelli tappetino con le ventose tutto 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 in silicone che non sto cercando di vendertelo è che come puoi vedere che ha diverse texture possiamo chiamarle così si diverse trame e toccandole possiamo produrre diversi suoni che se io avessi le unghie più lunghe andrei anche meglio ma noi ci accontentiamo ci sono i cuoricini corizzini 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 ci sono le righette sono belle tutti tutti ci sono le righette più distanziate l'una dall'altra l'una ci sono le righette fatte a onda anche queste distanziate in modo però più regolare però più distanziato dalle prime seconde e meno distanziato dalle seconde qui qui c'è un vortice qui c'è un vortice qui ci sono di più 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 carino più carino assomiglia un po' al mio trigger preferito quindi ti piace e vincere e vincere le e vincere qui qui abbiamo più ecco te vai più piano di quale le le in tinta, già potrei pubblicizzare le caramelle scoppiettanti tutti 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 i frutti di tiger perché hanno ancora il mio make up attenzione, blood twist, non ne ero accorta stavo pensando che questo suono mi ha ricordato il patagrappoggio il bastone della pioggia che tra l'altro io ho anche quello volendo ma non so, non so, non so quanto potrebbe piacermi creatura come ultimo trick, vorrei farne due uno, spruzzarti 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 un po' di questo fantastico blossom blush un profumo per capelli di acion con la giratina all'interno sto passando una che anche qua non sto minimamente provando a venderti questo prodotto tutto anche perché qui pulendo ho anche il profumo anzi l'acqua 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 profumata al cocco quale delle due preferisci che io ti spruzzi l'acqua 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 profumata al cocco l'hai già provato ed è molto 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 buona ma questa sera vorresti provare questo profumo per i capelli ok allora facciamo che io vi faccio qualche brutta volta poi lascia che i tuoi capelli si asciughino naturalmente e poi e poi e poi per i capelli per i capelli più non non devi fare questi pensieri se io te l'ho te l'ho spruzzata perché mi andava e non la sto sprecando per te perché perché anche tutto vali io ci tengo a condividere con te la mia acqua profumata per capelli adesso se vuoi ne spruzzo un po' un po' un po' un po' un po' un po' anche sui miei capelli bella fresca è vero adesso andremo a letto tutte tutte profumate sarà ancora più piacevole a rilassarsi come ultimo trigger il tapping solo schermo di questo vecchio 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 mio telefono quello che aveva questo pop socket un po' mistico mistico questo tapping mi ricorda vagamente il suono della pioggia anche se l'ultima volta abbiamo visto che l'effervescente ha contatto con la con la carta stagnola e l'acqua produce un suono veramente 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 molto simile che ha un temporale che ha un temporale della pioggia quindi quello è la cosa che si avvicina di più al suono della pioggia che non sia effettivamente che la pioggia più ommai sta nella top ten dei migliori suoni sml questo in confronto è veramente veramente da direttanti come sempre spero che questo video ti abbia fatto rilassare io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura